cari amiche e cari amici di outcast benvenuti ad un nuovo episodio di sala giochi io sono stefano calzati e stasera con me c'è giuseppe colaneri ciao e stasera vi parliamo di star drift evolution che è un racing top down firmato da dallo sviluppatore solitario katze che si presenta sul mercato su un mercato praticamente abbastanza spoglio di titoli del genere ci sono quelli di fan selector art of rally absolute drift e poco altro e si presenta in early access con già però un botto di contenuti perché la sua campagna con 20 coppe ha le sue 30 auto 60 tracciati e ad uno stile low poly molto come dire molto funzionale poco artistico dal mio punto di vista non so tu giuse cosa ne pensi rispetto art of rally è un po' più scarno da quella sensazione plasticosa giocattolosa che non so se è evoluta però diciamo che è quello che che gli dà quella marcia in più a rispetto dello stile non proprio esaltante però quello che fa lo sviluppatore concentrarsi con grandissimi risultati secondo me sulla guidabilità sul gameplay che similmente a quanto succede in absolute drift prende la derapata come elemento base del gameplay e ci crea attorno una guidabilità e dalle sensazioni estremamente simulative simulative tra virgolette nel senso che si riesce a a riconoscere un certo peso una certa inerzia una certa resistenza da parte dei terreni che si scontra con la natura comunque molto arcade molto immediata del gioco tu cosa 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 come l'hai trovato esatto pensavo questo è un arcade di fatto sembra un arcade appunto per il look un po' giocattoloso però di fatto non è l'arcade pick and play mi spiego certi controlli sono sempre molto semplici e quant'altro però la meccanica del drift va padroneggiata proprio tantissimo quasi alla perfezione e quindi se magari il look può ricordare un arcade un po' classico alla butto al di micro machine the box turbo anche se uno le visuali sono parecchie ma diciamo io almeno mi sono trovato meglio con la visuale dall'alto anche se è possibile una visuale da dietro al veicolo di fatto il gioco è molto più passatevi il termine competitivo nel senso proprio richiede una certa dose di skill anche semplicemente per fare dei tracciati senza uscire fuori pista ogni due secondi di fatto esatto anche perché poi si parte con dei tracciati abbastanza accessibili ci sono gli ovali che ti fanno prendere la mano ci sono quelli un po' più larghi un po' più sullo stile di tracciati reali diciamo e poi si passa a strade di montagna giapponesi con la carreggiata strettissima alberi da tutte le parti a bordo strada ostacoli e lì cioè bestemmiare è un attimo sì sì poi soprattutto le piste ghiacciate poi sì diciamo che è un gioco che è veramente cioè è quel classico gioco che a me non mi parla del giocatore che fa pensare un altro giro un altro giro proprio un'altra volta fa un tempo migliore però sappiate che è un gioco dedicato se non è competitivo comunque perfezionisti esatto nel senso che è un gioco che premia chi riprova la pista x e x volte fin quando fa la derapata perfetta il time trial nel senso proprio la voglia di migliorare i propri tempi è quello che è un po' il core del gioco in realtà è proprio un perfezionare allo sfidimento il saper percorrere quella pista fermo restando che il vantaggio è quello di avere un sistema comunque di guida molto appagante in ogni caso cioè anche quando magari sbandi la sensazione non è tanto quella della c'è qualche errore nel gioco ma è la voglia di dire sai che ci riprovo e imparo io come giocatore a farla meglio ecco esatto anche perché poi vedi che c'è dei sangri sopra di te in leaderboard ti viene un po' nervoso anche però sì è il suo pregio e al contempo un po' diciamo non il difetto perché sarebbe scorretto la sua caratteristica di fatto è un gioco che fa una cosa quindi darti un modello di guida molto convincente e adatto appunto per chi vuole spingere al massimo la propria guida e lo fa molto bene l'altro in gioco è quello non vi aspettate tipo modalità pazze certamente che il look potrà rende inganno non vi aspettate o neanche una roba tipo alla dirt nel senso che quell'arcade cacciarone e quant'altro è un gioco che fa una cosa ma la fa molto bene da quel punto di vista esatto cioè l'unica variazione è che ogni tanto ci sono i tracciati quelli chiusi tra virgolette e ogni tanto ti dà ci sono dei tracciati sprint che hanno un inizio e una fine e è molto simpatico che ci sono tipo sei o otto tracciati che replicano tappe reali dei vari record della Cropoli della Rally di Monte Carlo quindi molto figo da questo punto di vista e la sensazione è che secondo me ha ancora molte cartucce da sparare per esempio l'altro giorno visto che ha tolto due tracciati lo sviluppatore ne ha aggiunti altri due e c'è questo continua voglia di perfezionarsi non solo da parte del giocatore ma anche dello sviluppatore che continua ad aggiungere dettagli ad affinare il modello di guida metterlo a punto vede un po' perché c'è questo sistema di like e dislike sui percorsi quindi vede quelli che alla community non piacciono quelli che piacciono e quindi agisce di conseguenza è molto bello vederlo così vivo questo gioco sì sì concordo e anche ovvio c'è del poli sì ci sono tante cartucce sierate a gioco ovviamente c'è del polishing da fare stiamo parlando di early access e non considerate gli access alla super giant diciamo il team è molto più ristretto quindi c'è molto polishing da fare su certe cose tipo l'interfaccia e quant'altro per il core c'è le auto sono già adesso tante una cosa che mi è piaciuta da semi profano del genere è notare che comunque cambia davvero molto da nota in altro cioè vedi dei parametri e pad alla mano si nota la differenza anche sostanziale a volte tra una e l'altra quindi magari veramente con un'auto fate dei tempi tremendi e l'altra riuscite a chiudere la curva bene riuscite a migliorare insomma c'è da questo punto di vista già come dicevo prima c'è un core un sistema solido comunque sì 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 le varie auto sono proprio tendenzialmente molto adatte senza dirtelo o facendotelo provare con mano a determinati terreni per esempio c'è quella più impostata verso il rally che riesce a tenertelo bene il ghiaccio mentre quella più veloce scivoli via e basta senza neanche provare a curvare quindi c'è tutto questo questo sistema di scoprire un po' quale auto si adatta a quale tracciato e poi buttarsi nel time trial e provare a fare record su record sì sì il meccanismo è proprio quella cosa che c'è il gioco se siete un appunto di quelle persone che loggano e vedono che il vostro tempo è stato battuto da una persona e vi sale il sangue alla testa questo è un gioco che fa per voi perché appunto premia questo tipo di di perfezionismo estremo assolutamente volevo chiudere dicendo che ho apprezzato molto io che comunque sono abbastanza tra virgolette esperto del genere cioè mi piace ho abbastanza dimestichezza però ho visto che a livello di accessibilità di opzioni parametri che si possono impostare ha fatto un gran lavoro perché c'è vero si può veramente impostare tutto dalla sensibilità dell'analogico alla proprio al all'aiuto al controsterzo fino poi come accennavi prima alle varie visuali perché magari uno perde l'orientamento con la classica visuale top down non gli viene da curvare verso da girare la levetta verso sinistra se deve curvare a destra se l'auto è sotto sopra quindi c'è la visuale che segue sempre dall'alto però segue la direzione dell'auto o sennò c'è una visuale in terza persona che io non ho particolarmente apprezzato perché secondo me ha proprio una velocità una fluidità e anche una possibilità di essere letta dei tracciati che secondo me perde un sacco con la visuale in seguimento sì sì sono d'accordo io mi sono trovato molto bene con la seconda visore dall'alto quella diciamo non pura ma quella cosiddetta dinamica che segue anche un po' di più veicolo secondo me proprio per la natura di dover comunque fare una derapata perfetta e quindi dover anticipare parecchio diciamolo la frenata lo stop e così via la visuale dietro le spalle può sacrificare certamente questo tipo di facilità di lettura ecco del percorso sì 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 assolutamente e che dire lo trovate su Steam costa 8 euro che cioè penso che li abbiate spesi tutti in modi molto peggiori per un early access che comunque c'ha una quantità esagerata di roba da fare poi ogni tracciato anche preso singolarmente fuori dalla sua coppa a 6 stelle mi pare da conquistare per i vari tempi impostati esperto novizio così e quindi tanta roba sì poi c'è una una community se vi piace appunto questo tipo di gioco c'è una community di discord piuttosto attiva che organizza tornei partitelle e così via che vi rende appunto vi dà ancora più motivazioni per migliorarvi ecco esatto molto figa comunque anche la la scelta nella modalità online di rendere tutti i partecipanti dei ghost in modo che così non c'è bullismo vario sportellate scorrette eccetera proprio anche per mantenere più pura l'esperienza ecco esatto senza però togliere chissà che adrenalina al sorpasso perché comunque se lo vedi lì e lo prendi e all'ultima curva anche se non ci sbatti contro è una guida se appunto se vi scrivete al loro discord un attimo attivare il microfono e far partire la bestemmia se vi giocano assolutamente sì penso di aver letto tutto vuoi aggiungere qualcosa? no per me non me la vedo con te ripeto magari non è la tazza di te come del libro inglese adatta a tutti i giocatori però per quei giocatori che si rivedono in questo tipo di gioco può certamente dire la sua ecco esatto non è quella roba pulitina precisina un po' hipster come Arto Frelli che comunque è bellissimo però ha tanta sostanza ecco sapere che comunque andrà comunque sempre di più a migliorare mi esalta ancora di più penso di di aver detto tutto sì c'è tutto c'è tutto provatelo alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.